Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Akai la battaglia è finalmente iniziata. Abbiamo iniziato a vedere alcuni scontri molto interessanti e oggi ci concentreremo sullo scontro che ha a che fare con un dio della distruzione contro uno dei maghi oscuri. Ragazzi bentornati su Dragon Ball Akai e bentornati su Red Saiyan, canale dedicato a Dragon Ball con video giornalieri. Quindi chiaramente per continuare a seguire il nostro canale vi consiglio di iscrivervi e di lasciare mi piace così sappiamo anche noi quali contenuti vi piacciono di più, quali serie vi piacciono di più e vedremo anche se possiamo modificare un po' la programmazione in base alle serie migliori. Io direi quindi che possiamo cominciare e prima di cominciare vi ricordo ancora un'ultima cosa ovvero che questo canale è sostenuto moltissimo anche dal nostro ozio che trovate ovviamente in descrizione, si chiama Redok e ci sono un sacco di prodotti a tema Dragon Ball. Tra cui anche i nostri poster personalizzabili che vi consiglio di guardare potete infatti diventare il vostro guerriero preferito. Vi ricordo le solite cose quindi che avete il codice sconto YouTube per avere il 10% di sconto e anche con 60 euro di spesa la spedizione è gratuita quindi ci spostiamo finalmente al combattimento che riguarda il nostro dio della distruzione. Liquir sta combattendo con le unghie e con i denti contro Tira e vediamo a quanto pare che lo stesso Liquir si rende conto che la differenza di potere tra i due personaggi ha iniziato ad aumentare moltissimo. E infatti riesce a lanciare un colpo estremamente potente e Liquir si rende conto nonostante non avrebbe voluto che deve iniziare a utilizzare da subito la sua vera forza da dio della distruzione per salvaguardare il suo universo. La nostra attenzione però si sposta all'universo 7 siamo sul pianeta Terra vi ricorderete infatti che Beerus ha intercettato uno di questi maghi che stava provando a catturare Ub e si sta scontrando con lui. Ub infatti ha preso il suo maestro e se ne sta andando via sta proprio scappando nonostante senta qualcosa di strano in questi due personaggi. Chiaramente Beerus è conosciuto anche dal suo avversario, avversario che dice comunque che ovviamente non può dirgli nulla dei suoi piani e dice anche che non è il momento di affrontare un dio del suo calibro. Difatti utilizza un colpo potentissimo verso Beerus, colpo che però Beerus riesce a sopportare benissimo e finalmente grazie a una folata di vento riesce anche a vedere chi è sotto a il cappuccio e ovviamente la risposta ragazzi sorprenderà alcuni fan del canale. Ciò sotto il cappuccio è Lord Taron, il maestro di Beerus, il dio della distruzione dell'universo 7 che è arrivato prima di lui e che ha addestrato il dio di adesso. Perché dico che questo è un volto familiare per i fan del canale? Perché proprio chi ha scritto Dragon Ball Akai ha fatto una miniserie legata alle origini di Beerus in cui conosciamo il maestro Taron. Quindi vi invito a recuperarla, se volete c'è il video completo ovviamente. Sendo che Beerus è scioccato, completamente scioccato, Taron riesce a creare una sorta di portale evocativo per scappare via. Ovviamente Beerus inizia anche a rosicare non solo per aver visto di nuovo il suo maestro in queste condizioni ma anche per il fatto che si è distratto dallo shock ed è scappato. La nostra attenzione però si sposta nuovamente nella navicella di Freezer. A quanto pare le forze di Cooler si preoccupano per il loro capo. Freezer però dice che comunque Cooler è in grado di calarsela benissimo da soli e anche che adesso loro dovranno servire lui fino a quando Cooler non tornerà. Anche perché altrimenti li dovrà uccidere. Rendono però conto che c'è qualcuno che li sta seguendo. Quel qualcuno ragazzi, vi rinfresco un po' la memoria, è Pai Kwan. Adesso Guardia Celeste che ha deciso di inseguire Freezer per portare a termine la sua missione, ovvero quella di ritirare Genemba ed evitare che Freezer raccolga altre bestie primordiali. Chiaramente la forza è assurda e quindi Freezer ordina i suoi di lanciare la navicella alla massima velocità. Nonostante probabilmente con questa velocità la navicella non resisterà a lungo. La navicella infatti inizia a tremare. Sono tutti preoccupati e Freezer chiede al suo servitore dotato di teletrasporto di teletrasportare la navicella il più lontano possibile. Non importa dove. Prima ancora del teletrasporto però a quanto pare, Pai Kwan ha raggiunto la navicella. È sopra il tetto dell'astronave e quindi anche se si dovessero teletrasportare lui andrebbe con loro. Freezer quindi decide di prendere in mano la situazione e di uscire anche lui nello spazio. Non vede l'ora di mostrare il grande potere, la grande forza del maestro Freezer e ci spostiamo nuovamente ai pianeti Queen dove continua in modo anche molto molto rapido lo scontro tra Cooler e Vegeta. Contro ragazzi a un livello pazzesco. Cooler infatti con i suoi colpi riesce addirittura a dividere a metà l'intero pianeta e Vegeta non solo schiva qualche colpo ma riesce anche ad assestare dei colpi ben precisi, ben piazzati contro il suo avversario. Tra l'altro tra questi abbiamo anche il famoso Galat Gun che riesce a sparare il nostro Vegeta contro l'avversario creando un cratere immenso. Chiaramente però siamo in Dragon Ball e quando c'è un cratere con del fumo vuol dire anche che l'avversario in qualche modo è sopravvissuto. T Cooler esce dal cratere con una nuova forma, la sua forma d'assalto finalmente con una potenza aumentata la potenza che se non avesse aumentato all'ultimo secondo probabilmente sarebbe anche stata la sua rovina. Visto che quelle sono le sue intenzioni comunque adesso Vegeta è pronto a distruggerlo. Nostra attenzione però si sposta all'universo 6 sul pianeta dei Kaioshin. A quanto pare hanno finalmente trovato le informazioni riguardante la bestia primordiale dell'universo 6. E Goku ora, come nuovo dio dell'istruzione, è pronto a mettersi in marcia, è pronto a muoversi anche lui per far parte di questa guerra che sta iniziando a far tremare l'intero multiverso. Ragazzi, l'episodio di oggi termina proprio qui. Grazie per stati qui con noi, io ovviamente vi invito al prossimo episodio che dovrebbe uscire domani quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo domani con altri contenuti a tema Dragon Ball. Ciao ragazzi!